Allora, se andate sul sito www.storiefavolose.it troverete noi attori che abbiamo letto delle favole scritte dai bambini. Solo per questo sono fantastiche, bisogna andarle assolutamente ascoltare, anche perché le abbiamo lette pari pari come le hanno scritte. Per cui un italiano abbastanza biscardesco, ma che arriva ai cuori come tutte le cose che i bambini fanno. Grazie per andare a vederci mentre si legge i bambini.